Ristretto Italiano. I media internazionali scrivono di noi. Buongiorno. Se i vandali che imbrattano i monumenti storici italiani cercano visibilità ai loro gesti, anche questa volta a Firenze, al corridoio vasariano, ci sono riusciti. Ne scrivono tutte le testate di tutto il mondo. Peccato che ai resoconti delle loro azioni irresponsabili non siano associate rivendicazioni, in questi casi che talvolta potrebbero avere anche contenuti condivisibili. Contenuti, attenzione, non metodi. Nel Regno Unito, per esempio, si parla molto dei recenti e pessimi artisticamente parlando graffitari fiorentini. Cito Sky News che titola Vandalismo al corridoio vasariano. La polizia italiana cerca turisti tedeschi dopo lo srogan calcistico dipinto con lo spray sul monumento fiorentino. E ciò avviene durante un'estate in cui il Colosseo stesso è stato imbrattato da due turisti inglesi e altri vandali si sono arrampicati sulla Galleria Vittorio Emanuele di Milano. Sul monumento fiorentino sono stati disegnate grandi lettere e numeri che si ritiene riguardino la squadra di calcio tedesca Monaco 1860. La polizia sarebbe cercando di incastrare due turisti tedeschi molto giovani, entrambi sui vent'anni ripresi dalle telecamere mercoledì mattina all'alba. Le immagini dei due, entrambi caucasici, bianchi, con tute blu e cappellini da baseball, sono state fatte girare sui giornali locali e sui social e non è detto che qualcuno sappia trovarli. Il direttore degli uffizi, Schmidt, peraltro anche egli tedesco, ha sollecitato pene detentive fino a cinque anni per episodi del genere. Cambiamo argomento, CBS News, titola l'Italia sfrigola in un'altra ondata di caldo. A Milano il giorno più caldo degli ultimi 260 anni. La temperatura media di giovedì a Milano, di porta CBS, temperatura media, quindi notte compresa, è stata di oltre 33 gradi centigradi, la più alta da quando nel 1763 a Brera si sono cominciate a registrare le temperature. Il record precedente risale all'estate del 2003, quando in Europa morirono per il caldo 70.000 persone. E temperature anomale, anche se come tutti dicono l'ondata di calore sta per finire, domani si pensa, temperature anomale stanno interessando tutta la catena alpina. La responsabilità delle ondate di calore sempre più ravvicinate, afferma il servizio di CBS, è per i scienziati dell'effetto del gas serra e l'Europa, secondo l'Organizzazione Meteorologica Internazionale, è la regione del globo con il riscaldamento più rapido. Parliamo di finanza. Bloomberg dagli Stati Uniti scrive, titola, le nuove regole italiane sulla vendita dei crediti inesigibili potrebbero essere un altro duro colpo per gli investitori. Il riferimento, dopo la legge sugli extragetti di bancari, è alla legge sui crediti inesigibili, che secondo la fonte di Bloomberg stessa dei giorni scorsi sarebbe allo studio del governo. In pratica, gli investitori in crediti deteriorati comprati alle banche, spesso internazionali, dovrebbero accettare da famiglie e imprese che hanno dei debiti inferiore ai 25.000 euro, rimborsi per una frazione del loro valore nominale, una norma per frenare, come nel caso delle banche, gli extraprofitti da parte di società che spesso praticano tassi e applicano metodi che ricordano molto da vicino l'usura. Ecco, secondo Bloomberg, la nuova legge potrebbe turbare ulteriormente i finanziatori e gli investitori internazionali in un paese ancora scosso da una tassa a sorpresa sulle banche. Le preoccupazioni degli investitori si concentrerebbero sulla possibilità che le misure possano cancellare i loro rendimenti e mettere a repentaglio il mercato italiano dei prestiti in sofferenza. Dalla Francia, Orange, per venire alla cronaca, quella proprio più pettegola, titola Una passeggera rifiuta di allacciare le cinture ai figli e l'aereo fa marcia indietro, gli effetti che fa il caldo. La storia, raccontata dal sito francese, che è stata ripresa anche da qualche testata italiana, si riferisce a un volo Olbia-Roma che lunedì scorso è dovuto tornare a terra. Insomma, questa donna non riteneva opportuno che le due figlie di 2 e 4 anni che stavano giocando sul sedile allacciassero la cintura e, sempre questa donna, è quasi venuta alle mani con la hostess, contro la quale avrebbe anche lanciato il suo cellulare. Anche se lei dice di no, lei dice che lei è caduto verso la hostess. A questo punto il pilota ha deciso autonomamente di tornare in aeroporto, dove c'era la polizia ad accogliere la madre di famiglia e a raccogliere entrambe le versioni, non pervenuta la reazione degli altri passeggeri. Concludo con un suggerimento turistico, tutto sommato è sabato d'agosto. È Nice Matin dalla Francia, suggerimento per una passeggiata a un'ora da Nice, a un magnifico borgo italiano nel cuore della Liguria. E se il consiglio va bene per loro, i francesi delle Alpi Marittime, va bene pure per noi. Il paesino, arrampicato sulle pendici della Val Nervia, si chiama Apricale e può essere un'idea anche per noi, dicevo, un borgo che appare impenetrabile con le sue case costruite praticamente l'una sopra l'altra. Una volta dentro, racconta Nice Matin, si cominciano a vedere gli scorci offerti dalle biuzze e le ripide scalinate fra le antiche mura, un labirinto tutt'altro che inaccessibile dove il tempo sembra essersi fermato. Un fascino, peraltro, esaltato dai campi terrazzati tipici della Liguria, dalle piantagioni di olivo, così come dai boschi di querce e castagni. Apricale nacque nel 1267 e da allora ha sempre arricchito nei secoli il proprio fascino ed è rica tuttora di eventi sia estivi che invernali. Detto questo, vi auguro buon weekend e vi aspetto lunedì mattina sempre qui con Ristretto Italiano.